sempre. Anche dopo un tradimento, da parte di lei. Ecco svelato il motivo per cui Paolo Ruffini e Diana del Buffalo, che fanno di nuovo coppia fissa, si erano lasciati mesi fa. Quest'estate era scappata con uno e poi è tornata, svela il comico nel corso di un'intervista radiofonica. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita, conclude a sottolineare che non è geloso. Paolo e Diana si erano conosciuti e piaciuti sul palco della trasmissione Colorado nel 2015. Un amore travolgente il loro, durato fino alla scorsa estate quando l'attrice su Instagram aveva spiegato, ci siamo amati alla follia. Ci amiamo ancora in un'altra forma. Io non so se le persone siano destinate a stare insieme per sempre, ma l'amore vero va provato almeno una volta nella vita. Nessuno sa la verità, tranne noi. C'è solo amore, purezza ed entusiasmo per la vita. Paolo è un uomo unico, stupendo. Poi i due a inizio autunno sono stati pizzicati più volte insieme tra Roma e Milano. E alla fine è arrivata la conferma del loro ricongiungimento da parte di Paolo nel corso di un'intervista pepata a Radio 24 in cui ha spiegato, quest'estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore. Tanto che poi aggiunge, Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie, Claudia Campolongo, NDR. È una cosa straordinaria. E la mia ex dice che TR. Va meglio con lui.